Una notizia terribile arriva da Genova. Una donna di 73 anni è caduta dal quarto piano della sua casa, situata via Fabrizi, tra i quartieri quarto e quinto. La caduta non le ha lasciato purtroppo scampo. L'anziana è stata trovata morta nel giardino. Sul posto anche gli agenti del commissariato e i vigili del fuoco. La vittima era la moglie di Attilio Perotti, ex allenatore di Genoa, Verona e Livorno. Grazie per la visione!